Il caldo, ma soprattutto il vento, ecco cosa rimane dopo un intero pomeriggio di fuoco sulla Murgia, l'incendio più vasto finora registrato dall'inizio della stagione estiva. Siamo alla periferia di Minervino, in fumo, oltre un centinaio di ettari, tra bosco e sterpaglie. Le fiamme sarebbero partite proprio da qui, non è chiaro se per mano dell'uomo o per altre ipotesi. La bruciatura, per esempio, non consentita dalle stoppie. Difficili, se non quasi impossibili, le operazioni di spegnimento da parte degli agenti del Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Operai Forestali della Regione. Oltre una ventina, in poco meno di sei ore, i lanci d'acqua da parte di un Canadair della Protezione Civile, l'unico mezzo in grado di raggiungere la zona impervia dell'incendio, che ha lambito una grande fetta di bosco che ha rischiato di essere distrutto. Appena sabato scorso, ha ricordato in una nota l'assessore regionale con delega alla Protezione Civile Guglielmo Minervini, è partita la campagna antincendi 2013. Nelle ultime ore l'Aggiunta ha approvato la convenzione integrativa per l'utilizzo dei velivoli Fireboss. L'appello è rivolto ai cittadini, ha detto Minervini, perché siano le nostre sentinelle sul territorio e soprattutto siano responsabili e non incorrano in comportamenti che possano mettere a rischio il paesaggio boschivo.